E se Spina ha detto la verità, legittimerà qualunque accordo farino. Manca solo una cosa. Che è successo al finestrino? Il finestrino? Sì. Ci è volato dentro un corvo. Un corvo? Sì. Stava deponendo le uova, ma l'ho cacciato. Ottimo. Ne metterò uno nuovo. Chiamami se dovessi avere altre auto. Al club tutti le vogliono. Le puoi vendere tutte. 現o su come faccio. No, ma non è l'aiuto. No, ma non è l'aiuto. Ma non è l'aiuto. No, 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 no.